Noi siamo pronti, siamo pronti quando riaprirà la scuola a mettere la nostra organizzazione e anche delle risorse per riaprire la scuola nella massima sicurezza, facendo i tamponi a tutti gli operatori scolastici e a tutti gli studenti. Una cosa che dovrebbe fare la Regione, del resto la Regione ha fatto una bellissima operazione con lo screening generale ai tamponi, però se dovesse avere problemi con il personale perché è impegnato nella campagna di vaccinazione, noi siamo disponibili a mettere 30-40 mila euro del Comune per pagare medici e infermieri extra e abbiamo già una buona disponibilità. Il punto vero adesso è capire quando riaprirà la scuola, oggi la Regione Marche è una delle ultime che vuole riaprire la scuola, secondo me in maniera abbastanza ingiustificata, stando ai dati che ci sono, ovviamente se poi i dati peggioreranno nei prossimi giorni le cose cambieranno per tutti, però tre regioni hanno già riaperto, Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo, la Toscana in particolar modo ha fatto un lavoro sulla sicurezza simile a quello che sto proponendo, e il 18 riapriranno tante altre regioni, non si capisce perché le Marche devono essere l'ultima, a maggior ragione è una regione che ha già i tamponi e che potrebbe fare uno screening per far rientrare i ragazzi ovviamente al 50% nella massima sicurezza possibile. Questa è la proposta che facciamo, noi siamo pronti, adesso la palla è alla regione. L'idea che abbiamo è di fare quattro punti, uno al campus scolastico per tutte le scuole del campus, uno nel centro storico per le scuole superiori e anche paritarie del centro storico, e invece all'agrario e all'alberghiero occorrerà andare direttamente sul posto. L'idea è di farlo la prima settimana di riapertura in modo tale da farlo nell'orario scolastico, in modo tale che più ragazzi possibili lo possano fare. È ovvio che è una fotografia lo screening di quel momento, non esclude che poi si possano ammalare nei giorni successivi, però di certo è una bella operazione di sicurezza, del resto la si sta facendo in generale sui cittadini, non si capisce perché non la si può fare in maniera specifica sugli studenti.